... la mano e cominciare a capire, a partire dal linguaggio, chi ci sta accanto, spesso nostro malgrado. Con questo spirito il Collegio Vescovile Barbarigo organizza per il quarto anno consecutivo dei corsi di lingua araba. A partire dal 24 novembre, tutti i martedì, spazio ai neofiti, dalle 16.30 alle 18.30. Noi cerchiamo di offrire come Collegio Barbarigo ospitalità anche a questo tipo di proposte, convinti che tutto quello che serve a far incontrare e comprendere le persone possa servire anche a un maggior rispetto reciproco e quindi a porre qualche passo verso un mondo di pace. Cerchiamo anche di essere fedeli al nome che portiamo. Il Vescovo Barbarigo è stato uno che a Padova ha fatto stampare il Corano oltre tre secoli fa come segno già di un interesse a un mondo che sembrava lontano ma era vicino per certi aspetti anche allora. Un gesto distensivo verso altre culture in questi giorni fioccano le adessioni soprattutto di professionisti che guardano ai paesi arabi per motivi oltre che culturali anche economici. Il mondo arabo è un mondo che ai nostri giorni si è fatto molto vicino, sia in un senso nostro di andare a lavorare, a cercare lavoro, a cercare commesse imprenditoriali, a cercare vacanze anche in paesi dove si parla l'arabo ma anche con tante persone parlanti arabo che ormai vivono in mezzo a noi. Il costo per 40 ore di lezione è di 320 euro. L'insegnante è il professor Adnan Yasser e visto l'interesse che ha scatenato potrebbe essere attivato un altro corso dalle 18.30 alle 20.30 per sentire più vicino un mondo in apparenza tanto lontano.